Musica Mi ha fatto molto piacere questo invito e mi ha fatto piacere poter raccontare tutta questa vicenda dell'inquinamento a FAS che è una vicenda che mi pare molto importante e grave e che era giusto poter sintetizzare anche in un incontro pubblico spiegando che in fondo chi ha fatto informazioni su questo tema è riuscito in qualche maniera a dare un po' più di peso a questo fatto e magari ad aiutare le azioni volte alla soluzione. Musica Fare inchiesta sul tema FAS è stato laborioso e complesso perché complessa è la materia non è stato sempre semplice perché ha significato studiare carte, passare giornate e notti a rincorrere notizie però insomma alla fine credo che il quadro che sta emergendo e che è ancora lungi dall'emergere completamente sia stato interessante per molti insomma Un festival di giornalismo come questo costituisce in fondo il segnale che c'è una professione viva e che ha voglia di spiegare a chi si interfaccia con essa in varia maniera e anche ai ragazzi quale può essere l'importanza e la rilevanza del fare informazione. Musica 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 Grazie a tutti.